guardate che arrosti allo spiedo fantastici ci troviamo alla birreria pedavena la numero uno la numero uno veramente belli bello vedete tutto allo spiedo perché questa sera c'è una grande festa hanno preparato in grande stile e questa è la birreria pedavena guardate il verde guardate che meraviglia guida pez Guarda che meraviglia, questa è l'entrata. Vedete Beria Pedavena, guardate Beria Pedavena che meraviglia e questa è l'entrata fantastica, vedete, guardate che spettacolo unico. Beria Pedavena e questo è il ristorante, guardate che meraviglia. Il ristorante è già preparato per questa sera, ci sono le luci però guardate che meraviglia, unica, guardate, guardate, davvero uno spettacolo unico, una grande storia. Questo è il banco principale, vedete Pedavena, tutti i liquori, guardate, e qua viene fuori delle birre e Pedavena, vedete? Stanno preparando, vedete? Che meraviglia, eh? Tutti i tavoli preparati, questa sera c'è una festa privata. bello, bello. Una grande storia, siamo nel cuore delle Dolomiti. e usciamo, vedete? Vedete? Birad Dolomiti Pedavena, la numero uno. Novitino il giorno, guardate che meraviglia. Stupendo. Bella, bella, bella veramente. Qua tutte le birre, vedete? Tutte le birre. Sì. 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 E usciamo. Guardate che meraviglia, unica. E qui siamo proprio, andiamo sulla fabbrica. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate, guardate, che meraviglia. Questa è la fabbrica. Guardate che meraviglia, unica. Guardate che meraviglia. La fabbrica è la birraria per l'avena. E qui termino. Meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. terminiamo con l'entrata c'è il sole che ci accecca adesso questo momento qui e chiudiamo così ma si vede male eccoci qua vediamo questa fontana meravigliosa cascata vedete guardate che che spettacolo unico